La saluto con grande affetto, la prima cosa è da Arezzo ho avuto tanto, ho avuto tanto in termini di competenze professionali, personale, di supporto da tutte le amministrazioni pubbliche, ho avuto tanto anche dal punto di vista della relazione. Cambio della guardia ai vertici dei vigili del fuoco di Arezzo. Nicola Ciannelli, attuale comandante dei pompieri Erettini, tornerà infatti a Pisa dove nel 1993 aveva già prestato il proprio servizio al comando, passando poi per quelli di Livorno e Firenze per essere infine promosso a primo dirigente nel 2018. Nicola Ciannelli era arrivato in città nel maggio 2019. Che squadra ha provato qua Arezzo? Una squadra di persone in gamba, di persone che ci mettono il cuore e che ci mettono tanta professionalità, come d'altronde tutti i vigili del fuoco nazionale. Ho sentito forte fin dal primo momento il dovere di essere accanto a loro, di dare tutto il supporto possibile, di valorizzare la loro dedizione, la loro esperienza. Alla guida dei vigili del fuoco di Arezzo subentrerà adesso l'ingegner Geremia Coppola. Che è l'attuale comandante dei vigili del fuoco di Lucca. Una persona di grande competenza, di grande esperienza professionale, per cui da questo punto di vista Arezzo non perderà nulla, anzi. Non posso non tornare, perché oltre a quello che si diceva prima, cioè della grande professionalità e del grande rapporto, la provincia di Arezzo è una provincia meravigliosa, che vale la pena di vivere anche al di fuori dal contesto lavorativo. Grazie